... Come non ce la deve avere, mi può far tutte le domande... Lo so, difatti lei non ha chiesto nulla, anzi si è portato uno sparring partner come Belpietro che è il più cattivo di tutti, scherzo Belpietro, Belpietro è cattivissimo. Il problema oggi di Renzi è che... Dopo che avete finito di farvi i complimenti, posso dire invece una cosa concreta? Scusate... Belpietro è un genio! No, perché dopo che avete fatto questo sparringetto... Io direttore, me lo stipendio, me lo taglio... Lei quanto guadagna ora? 3.000 euro al mese... E gli altri parlamentari quanto? I nostri parlamentari guadagnano questo... No, gli altri, quelli degli altri partiti... Circa 13.000-14.000 euro... Lei alla fine del mese 3.000 euro? Sì, tutti i mesi... Netti però onestamente... Sì, vabbè, 3.000... Sì. Di Battista, ballista in Goia, circa 9.400 euro netti al mese, ma va in giro a dire che ne prende solo 3.000. Punto 1. Gli altri parlamentari non possono prendere 13.000 euro di stipendio in quanto lo stipendio netto mensile di ogni parlamentare è di circa 5.000 euro, e all'ordo è di circa 10.400 euro. Per arrivare ai 13.000 euro occorre aggiungere i rimborsi spese. Al contrario di Battista, quando parla di sé, menziona solo il netto del suo stipendio, e tace sui rimborsi spese esentasse che percepisce. Punto 2. Vediamo nel dettaglio. Di Battista dello stipendio netto ricevuto pari a 4.994,48 euro in tasca 3.217,66 euro puliti. Oltre allo stipendio prende altri 8.854,96 euro, restituendo l'eccedenza di 2.643,15 euro. 8.854,96-2.643,15 uguale a 6.211,11. Di Battista prende questi 6.211,11 euro, oltre allo stipendio. Sommando lo stipendio di 3.217,66 euro ai rimborsi spese di 6.211,11 euro risulta che la somma ingoiata da Di Battista è di 9.428,77 euro. Punto 3. Di Battista, quando parla di sé, menziona solo lo stipendio netto pulito, mentre quando parla degli altri menziona lo stipendio lordo aggiunto ai rimborsi spese. Di Battista ci tiene moltissimo alla corona di politico ballista conferitagli dal New York Times. Beppe Grillo Oggi noi non sappiamo effettivamente quanto spendono dalla diaria. Potrebbero tranquillamente farci la cresta, pagarsi le cravate, la colf, come qualcuno mi racconta, senza che i cittadini che controllano la rete possano saperlo, perché i giustificativi non ci sono. Il tema dei soldi è importante, perché il Movimento 5 Stelle non ha creato una nuova classe dirigente. Lei sta dicendo che non c'è trasparenza in realtà sui soldi gestiti dal Movimento 5 Stelle e dai parlamentari? Assolutamente, ma se si va sul sito www.tirendiconto.it, che è quello che loro usano per far vedere che ridanno i soldi, uno ci può andare in temporale attraverso internet, si accorge che ci sono delle voci generiche, senza giustificativi, e che poi c'è una voce che si chiama altro, che è molto alta per molti parlamentari, anche talebani, e non si capisce cosa ci stia dentro. Hanno sdoganato il tema della trasparenza, perché il bilancio, 10 milioni di euro di finanziamento pubblico tra Camera e Senato, non ce lo fanno vedere nei dettagli di spesa. Ma loro hanno restituito un sacco di soldi, sono gli unici che hanno restituito i soldi. Allora, innanzitutto non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito, perché l'unico che l'ha fatto, sono stato io insieme al collega del Piemonte in 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico, perché non hanno uno statuto democratico. Quindi, è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno restituiti. 42 milioni, quella segnone stupenda, che ogni volta che lo vedo mi emoziono, che roba è? È finto. Come è finto? È finto, è un assegno di cartone. La Casaleggio Associati strombazza che l'M5S, il partito azienda di Casaleggio, non riceve finanziamento pubblico. Questo è falso. Il M5S riceve per i suoi gruppi parlamentari milioni di euro pubblici da destinare alla comunicazione. Questi soldi pubblici sono gestiti da Casaleggio. La Casaleggio Associati strombazza che l'M5S, il partito azienda di Casaleggio, ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Questo è falso. Non si può rinunciare a ciò di cui non si ha diritto per legge e costituzione per mancanza di requisiti. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento dei partiti, non ne ha diritto, perché la legge prevede che possono avere finanziamenti i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico, il Movimento 5 Stelle non ce l'ha. Per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di riduce della prima guerra mondiale. Non ho diritto. Allora...